Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Tosi, responsabile Customer Service di Ascon Technology. La linea guida dei Cube prevede che l'accesso a funzioni o parametri sia regolato da password. In altre parole, partendo dalla normale operatività, è possibile accedere a qualunque blocco accedendo alla richiesta di password. Anche l'uscita da qualsiasi blocco, ovunque vi troviate all'interno del blocco, avviene tramite un'unica azione, premendo il tasto Page per più di 3 secondi. Un'unica porta per tutte le esigenze. Facile da ricordare. La struttura parametri dei Cube è suddivisa in tre livelli. Un livello configurazione, protetto da password e dedicato al costruttore di macchina. Questo livello consente di adattare il comportamento dello strumento alle esigenze dell'impianto e quindi prevede tutti i parametri. Un livello assistenza, protetto da una seconda password, dedicato ai manutentori della macchina, con l'obiettivo di adattare l'impianto alle esigenze del cliente finale. Come tale, a questo livello, sono promossi solo i parametri che servono a rendere agevole e sicura l'azione. Infine, un livello operatore senza protezione per le impostazioni di tutti i giorni. Tutti, ma solo i parametri che servono. Un set parametri diverso e personalizzabile per ogni livello di utilizzatore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS